E' stata approvata all'unanimità la proposta di legge al Parlamento dedicata alla fiscalità di vantaggio per le aree interne. Sono innanzitutto felice che il Consiglio regionale abbia approvato all'unanimità questa proposta di cui sono primo firmatario e che ora quindi andrà al Parlamento nazionale. Noi siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori e sappiamo anche, e ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il Comune con il reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. Questa misura va nell'ottica di far operare un intervento che nelle zone del sud dove è stata applicata ha prodotto in sei mesi più di 500.000 posti di lavoro in più. La decontribuzione, il taglio del 30% per gli imprenditori che assumono nelle aree interne e montane, quindi noi chiediamo che appunto questa misura venga estesa a tutte le aree interne del centro nord. Le regioni non hanno competenza in materia fiscale, ce l'ha tutta lo Stato. Noi abbiamo voluto fare una proposta concreta, quindi allacciandoci a una misura come quella della decontribuzione che dove è stata applicata ha prodotto un aumento dell'occupazione e soprattutto abbiamo voluto sfruttare la massima possibilità, cioè la proposta di legge al Parlamento. Noi ci auguriamo che ora anche le altre regioni del centro nord sostengano la battaglia che da oggi inizia la Toscana perché appunto le aree montane del territorio nazionale, tutte anche quelle del centro nord, hanno problemi seri dal punto di vista dello spopolamento e lo spopolamento si combatte non solo garantendo i servizi ma soprattutto creando lavoro e dando opportunità alle persone di poter crescere dal punto di vista lavorativo e professionale in questi territori. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne a cui aggiungo insulari e montane perché in queste zone se non si fa qualcosa di veramente concreto si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più e l'unico modo che può diciamo la regione chiedere è chiedere al Parlamento perché la fiscalità dipende dallo Stato e quindi siccome è stato fatto qualcosa per le aree del sud noi chiediamo che anche le aree del centro nord abbiano lo stesso vantaggio. Questo vantaggio si tradurrebbe ovviamente in maggiori posti di lavoro perché il lavoro è l'unico incentivo che dà modo alla gente che vive in questi territori di continuare a viverci o di andare a viverci e quindi creare lavoro è l'unica soluzione per ridurre lo spopolamento quindi rendere questi borghi perché spesso sono borghi diciamo più appetibili a tutti. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento più volte abbiamo sollevato anche all'interno della commissione aree interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche digitali servizi per quanto riguarda la sanità alle scuole queste aree e renderle vivibili come il resto della Toscana però sicuramente intanto riesce a porre diciamo una piccola un piccolo rimedio al a uno dei problemi che è quello appunto della fiscalità e del del lavoro quindi sicuramente da accogliere in modo positivo senza dimenticare però che gli obiettivi quelli veri si raggiungono con un intervento ben più massiccio soprattutto con una programmazione pianificazione attenta. Progetto interessante il fine è quello che noi ci siamo posti come obiettivo in campagna elettorale consentire alle persone che vivono nelle aree interne di avere le stesse opportunità delle persone che vivono nelle grandi aree metropolitane è una questione di rispetto reciproco è una questione di compensazione economica non sempre vivendo nelle aree interne della Toscana si hanno le stesse opportunità di chi vive in una grande città per fare questo cosa serve servono investimenti servono infrastrutture ma serve anche una politica fiscale perequativa che possa compensare questo disagio. Questo è il fine ultimo della proposta di legge serve una misura importante nazionale che vada a rivedere definire classificare quelle che sono aree non tanto svantaggiate ma quanto interne come tale hanno meno opportunità rispetto a quelle delle grandi città o quelle che hanno grandi linee di comunicazione facendo questo riusciremo ad ottenere quello che per noi è oggi un impegno politico di fare in modo che il Parlamento approvi una legge su iniziativa delle regioni questo non si è mai verificato nella storia legislativa del Parlamento è una delle funzioni previste e quindi mi auguro che il testo possa arrivare in fondo dato che oggi c'è un governo che sembra anche a parole sensibili a questo tema. È una proposta di legge che dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente il tentativo di dare respiro sostanzialmente a quegli attori di lavoro in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario che metterebbe in condizioni di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo addirittura parliamo del 2029 con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente dal punto di vista sostanziale le aree interne. Ricordo una proposta di risoluzione votata recentemente sulle aree interne proposta in commissione da Fratelli d'Italia e sostanzialmente riteniamo che anche questa misura finalmente vada sul concreto. Ecco perché c'è l'appoggio del nostro partito in questa direzione. Finalmente una misura che dovrebbe toccare direttamente le tasche di coloro che nelle aree intere disagiate continuano nonostante tutto a creare e a portare a casa lavoro non soltanto per quanto riguarda la redditività e il fatturato della propria azienda ma anche garantendolo alle famiglie che continuano ad abitare a credere nel futuro di queste aree che sono strategiche per la Toscana. Promuovere un'adeguata formazione sull'utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale. Questo l'obiettivo della legge approvata in aula all'unanimità illustrata dal presidente della commissione sanità Enrico Sostegni. C'è stato un lavoro importante in commissione che è partito da un dato cioè la Toscana è stata la prima regione a usare a permettere l'uso medico dei farmaci a base di cannabinoidi. Ciò nonostante c'è necessità di una maggiore diffusione intanto della conoscenza delle modalità prescrittive e quindi con questa norma che abbiamo approvato in consiglio regionale all'unanimità si va a dire che si devono inserire, che si dovrebbero inserire, che è bene che si inseriscano nei piani di formazione del personale del sistema sanitario regionale dipendenti e convenzionati quindi anche i medici di base, tutta una parte di conoscenza sull'uso e le modalità prescrittive di questa tipologia di farmaci per diffonderne l'utilizzo laddove è necessario. Dall'altra parte c'è un tema di approvvigionamento importante per questo abbiamo approvato una mozione che richiama la Giunta a valutare con attenzione tutte le strade che possono permettere di aumentarne la produzione in Toscana perché sappiamo che dobbiamo comprarla dall'estero e anche questo spesso non basta e quindi una politica specifica per aumentarne la produzione in loco. Il posto regionale ha risposto in maniera estremamente positiva votando all'unanimità questa proposta di legge che andrà ad inserire all'interno nel percorso di formazione continua offerto dalla regione ai medici di base e quindi si va a combattere quelle remore culturali che alcolone purtroppo impedivano la somministrazione di quello che è un vero e proprio farmaco salvavita a migliaia di cittadine e di cittadini che potranno così trarre un enorme beneficio da questo principio attivo. È un problema che aveva attivamente impegnato la ex ministra del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo che venne proprio all'istituto militare per cercare di capire quali fossero le quantità che si potevano produrre e soprattutto trasformare a scopo terapeutico. Bisogna abbandonare una volta per tutte quelle manipolazioni, quelle strumentazioni che vengono fatte ogni volta che si parla di cannabis. L'utilizzo terapeutico della cannabis è una delle soluzioni per alcune persone forse l'unica per riuscire ad alleviare dolore o comunque sia lenire problemi di natura sanitaria che essi hanno. Quindi formare il personale a un utilizzo attento e soprattutto alternativo alle normali principi farmacologici è sicuramente da promuoversi. A questo punto va promossa anche la produzione. Abbiamo presentato un emendamento alla mozione del collega Melio che impegna a cercare una soluzione per quanto riguarda quella parte di infiorescenze che sono la parte più problematica e che vengono prodotte in eccesso da coloro che producono cannabis o producono canapa per altri scopi magari di natura industriale e che invece di essere distrutti o costituire un problema per la componente psicotropa che contengono possono essere al contrario utilizzati magari come dati agli istituti che la trasformano per poter essere utilizzati. È quel famoso passaggio dal privato al pubblico, quell'interazione partenariato che appunto l'ex ministra Grillo aveva già promosso. Il problema è caro perché negli anni in cui sono stato presidente della Commissione Sanità abbiamo lavorato perché questo potesse diventare all'interno del programma sociale della nostra regione è una questione non soltanto di principio ma reale e quindi è stata attuata una politica importante che porta la conoscenza, lo sviluppo, la sensibilizzazione dell'utilizzo della cannabis per fini terapeutici. Noi sappiamo che il dolore di per sé è un alert nel corpo delle persone non si deve convivere con il dolore, il dolore è una spia che quando si accende ti dà un segnale se si può sopperire al dolore, lo si può utilizzare per fini terapeutici. La cannabis è importante farlo, serve cultura, serve formazione, serve che il personale ne abbia consapevolezza non soltanto nell'accezione cosiddetto del fine vita ma anche nell'accezione dell'utilizzo durante le patologie all'interno prima nelle fasi appunto terapeutiche una volta individuata o diciamo una diagnosi che viene accertata. Per fare questo serve consapevolezza, formazione, serve che la medicina di base ne sia consapevole, serve nel territorio, serve soprattutto nelle ospedali di comunità e serve essenzialmente produzione. La Toscana e Firenze hanno un centro d'eccellenza sulla produzione che va incentivata non soltanto ovviamente per la Toscana in primis per noi stessi ma anche a livello nazionale. Questo può portare lavoro ma soprattutto può portare sollievo a tante persone che soffrono. Intanto dobbiamo quando si affronta questo tema sgombrare il campo e dire che si parla appunto di cannabis medica che deve essere prescritta da un medico abilitato a questo tipo di prescrizione non c'entra niente con il dibattito sulla liberalizzazione delle droghe leggere, sono due mondi completamente differenti. Da questo punto di vista la proposta di legge che oggi il Consiglio regionale ha approvato su una proposta di cui il primo firmatario Jacopo Melio va nella direzione di accrescere la formazione nei confronti del personale sanitario toscano proprio rispetto alle prerogative e alla importanza di utilizzo della cannabis medica. Molti medici non sono consapevolmente aggiornati su questa tematica, non sono tecnicamente aggiornati su questa tematica, quindi è giusto che il sistema sanitario regionale si metta in pari e preveda appunto un aggiornamento nei confronti del personale sanitario ed è un tema. L'altro tema è quello della carenza grave di cannabis medica, tanto che non può rispondere alla quantità prodotta, non può assolutamente corrispondere alle esigenze dei pazienti che ne fanno uso e che ne devono fare uso, sottoponendo gli stessi a una rincorsa la mattina presto davanti alle farmacie ospedaliere che non è dignitosa e che comunque non va in questa direzione. L'unica struttura abilitata alla produzione di cannabis medica in Italia è l'istituto farmaceutico militare fiorentino. Da questo punto di vista penso che la regione toscana non fosse altro per questo motivo deve essere a vanguardia e mettersi appunto come regione pilota verso una battaglia che è prima di tutto una battaglia culturale e che poi appunto è una battaglia di civiltà nei confronti di tanti pazienti che possono utilizzare quel tipo di appunto medicinale avendo degli effetti diretti, importanti e tangibili. È emerso naturalmente una visione tecnica nel senso che la cannabis per scopi terapeutici è sicuramente un presidio che dobbiamo assolutamente validare come medici e come politici. Come medici tecnicamente dobbiamo conoscerla perché ci fidiamo delle cose che conosciamo. Come politici ovviamente dobbiamo dare gli strumenti ai medici cioè ai tecnici perché questo possa diventare realtà. Oggi abbiamo sostanzialmente dibattuto in termini abbastanza precisi cioè la cannabis per scopi terapeutici. Scopi terapeutici è una parte che molto spesso adesso non viene utilizzata per una certa titubanza, per una certa sorta di mancanza di cultura, di cultura medica riguardo a questo presidio. Invece purtroppo ce n'è bisogno in quanto ovviamente la cannabis può essere utilizzata in quelle forme di sla, in quelle forme di cure palliative che molto spesso aiutano persone che soffrono veramente molto. Del futuro dell'aeroporto di Peretola in relazione a quello di Pisa ha parlato in aula il presidente della regione toscana Eugenio Gianni rispondendo ad un'interrogazione della consigliera Noferi. Il programma di governo è molto chiaro, io mi atterrò a quello. Si parla nel programma di riavviare il processo per la valorizzazione dell'aeroporto a Peretola in coordinamento con l'aeroporto di Pisa. Tanto è vero che i primi lavori inizieranno a Pisa proprio il 15 marzo per la nuova aerostazione. Pisa che si valorizza con la nuova aerostazione in vista di diventare sempre più il consolidato riferimento dei voli intercontinentali dalla Toscana e dall'altra Firenze che nella sua funzione City Airport vede la pista in una dimensione che è quella dello stesso aeroporto con la stessa aerostazione, lo stesso parcheggio ma orientata in modo diverso, esattamente orientata in modo declinato rispetto all'autostrada, non più parallelo. Declinata quindi con una pista che va ad essere di 2.200 metri e non 2.400 come avevamo previsto, con un cono di volo che non tocca più Prato, non tocca più l'estremo sud del Comune di Sesto. Si orienta invece per intendersi verso la zona naturistica di Focognano e della montagnola dell'ex discarica di Case Passerini. In questo caso quindi maggiore correttezza da un punto di vista ambientale, minore inquinamento acustico, oggi il cono di volo è su 50.000 persone, in quel caso non arrivano nemmeno a 1.000 le persone in cono di volo e maggiore sicurezza perché con una pista di qualche centinaio di metri più lunga gli aerei non sono costretti a fare quelle frenate pazzesche che vediamo oggi quando si parte, ma soprattutto quando si atterra da peritola. Grazie a tutti. Grazie a tutti.